Francesca Fagnani, ospite a Che tempo che fa, ha rivelato dettagli sulla nuova edizione del suo programma Belve. Durante la trasmissione ha svelato il nome del primo ospite che sarà intervistato. Si tratta di Andrea Gianbruno, ex compagno di Giorgia Meloni, che potrebbe finalmente rompere il silenzio su alcune questioni scottanti. Fagnani ha dichiarato che l'invito è stato accettato da Gianbruno, il quale è convinto di partecipare e sta dialogando con Mediaset per organizzare la sua presenza. Il possibile arrivo di Gianbruno a Belve è un evento molto atteso, considerando che l'uomo non ha mai parlato pubblicamente dei fatti che lo hanno coinvolto. Il suo coinvolgimento in uno scandalo e la sua separazione da Meloni hanno alimentato le speculazioni e l'interesse mediatico nei suoi confronti. La presenza di Gianbruno a Belve, potrebbe finalmente far luce su ciò che è accaduto e rispondere alle domande rimaste senza risposta. L'attesa per questa intervista è alta e potrebbe portare a importanti rivelazioni sul passato dell'ex compagno di Giorgia Meloni.